buongiorno flowers stamattina me la sentivo molto be watch sto cercando qualcosa da mettermi addosso perché l'uomo purtroppo anche in questo è sempre più agevolato di noi donne perché si mette i vantaloncini del costume la maglietta affatto noi no il costume trova il sopra trova il sotto trova il vestito e la ciabatta e via però guardate vi posso far vedere quanto è ordinato cuore a parte questa che l'ho messa un attimo io qua magliette bianche magliette nere camicie nere magliette colorate pantaloncini riparto delle buste cioè lui ha un reparto delle buste i costumi tutti piegati dentro le buste cioè guardate qua fastidio io invece la valigia di costume ho buttato tutto eccolo qua via trovato il copre costume adesso è mancabile il mio profumo che continuate quando venite spiaggia a chiedermi che profumo è ragazze sempre questo anche da uomo c'è una versione ancora più strong ma è sempre lui quello ai ferromoni che attrae meraviglioso poi rimane tutto il giorno è veramente un profumo che non vi so descrivere però se andate sul sito troverete tutta la piramide olfattiva è molto molto dolce nebulizzate su collo e polsi vi rimane per tutto il giorno poi ragazze siccome questo attire attrae io non voglio responsabilità sui casi che voi attrarrete con questo profumo però vi posso lasciare il mio codice sconto e anche qui il link per andare sul sito guardate io non voglio un po' di più non voglio un po' di più non voglio un po' di più Grazie a tutti